Incredibile, 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 ragazzi, con cosa sta succedendo allo evento stadium, ragazzi, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ragazzi, dormita, dormita, dormita di, ma cazzo, svegliatevi, svegliatevi, Oblak, è il numero 23 lì, Juanfran, chi cazzo è? Sveglia, Juanfran, svegliati, che dobbiamo vincere, cazzo di Buddha, e voi iscrivetevi al canale, guardate sto cazzo di video, e ciao!